In questa conferenza stampa andremo appunto a presentare quello che accadrà sabato a Rocca di Cambio alle 10.30 presso la sala polifunzionale dove ci sarà il riconoscimento del Parco Sentevelino come primo parco dei borghi del respiro europeo. Questo è un percorso che ho iniziato diciamo due anni fa. Come sindaco di Fagnano ho partecipato per diventare il borgo del respiro come Fagnano e al momento appunto del ricevere la targa di riconoscimento a Scanno ho lanciato questa proposta all'Associazione dei borghi del respiro dicendo che visto che c'erano già dei comuni all'interno del Parco Sentevelino che erano borghi del respiro perché non provare a lavorare per il primo parco dei borghi del respiro. Io pensavo d'Italia, non immaginavo d'Europa. E così l'Associazione ha risposto prontamente e ha lavorato un anno seguendo tutti i loro protocolli diciamo la qualità dell'aria dei nostri comuni ha risposto puntualmente a tutti i parametri e quindi siamo riusciti a certificare tutti i comuni del parco come borghi del respiro e sabato ci sarà la cerimonia e di conseguenza il Parco Sentevelino come primo borgho del parco del respiro d'Europa. Sicuramente per noi è una grandissima opportunità. In questi anni abbiamo fatto tanti progetti e siamo cresciuti anche a livello di visibilità e di promozione però era un tema che io ho voluto sposare con forza soprattutto dopo il Covid che c'è stata quell'esplosione di turismo sul nostro territorio alla ricerca appunto di benessere, di qualità dell'aria eccetera quindi abbiamo lavorato in questa direzione. Oggi per noi è anche una proposta vera e propria di promozione del nostro parco a differenza di tanti altri. Come io dicevo spesso alla Regione io non vado alla BIT finché non sarò pronto cioè perché io devo andare alla BIT a vendere il prodotto del mio parco perché devi venire nel Parco Sidentevelino e non in altri parchi d'Abruz o d'Italia. E questa secondo me è un'ottima iniziativa e adesso ci metteremo subito al lavoro per individuare dei percorsi balsamici proprio da proporre ai nostri cittadini, ai nostri turisti. Con grande orgoglio e soddisfazione che il nostro parco regionale diventa il primo parco a livello europeo con la certificazione dei borghi in respiro. Segno e segnale che questo modello di gestione dell'aria protetta sta facendo un grande lavoro che ci porta nelle condizioni di essere ormai modello per tante cose. Noi siamo stati progetto pilota per la Green Comune in Italia, tante altre iniziative e oggi siamo all'interno di questo riconoscimento che è frutto di un lavoro fatto, di un lavoro sinergico tra la Governanza del Parco e l'assessorato regionale proprio in una visione d'insieme che crede che le aree protette possono essere e devono essere un'opportunità, che questa è la sfida che lanciamo al futuro. E poi ecco, questa certificazione che poi è legata alla qualità dell'area dimostra nuovamente quello che noi andiamo raccontando in giro per il mondo per quanto riguarda l'agri-food, per quanto riguarda i prodotti della nostra terra, che la nostra terra è unica e qualitativamente in termini ambientali superiore alle altre e quindi i nostri cibi, i nostri prodotti sono superiori a tutto il resto d'Italia, a tutto il resto del mondo. Ecco, fatemela raccontare così perché all'atto pratico è realmente così, ma noi dobbiamo promuovere la nostra terra proprio facendo capire l'unicità dell'Abruzzo. Siamo una terra poco conosciuta, nel momento in cui abbiamo la capacità di farci avvicinare da qualcuno sicuramente lo facciamo innamorare. Quindi questa iniziativa, queste certificazioni, queste attività diventano fondamentali per promuovere e far conoscere questo meraviglioso territorio. Abbiamo pensato a istituire il primo Parco Europeo del Respiro sin dal 2020, anche in periodo di Covid. Per quale motivo? Perché abbiamo inserito i primi otto comuni che facevano parte tutti quanti del Parco Sirente Pelino. Quest'anno ne aggiungiamo altri 14, in totale 22, e quindi saremo il primo Parco Europeo del Borghi del Respiro. Abbiamo avuto la collaborazione del Presidente del Parco e del Direttore del Parco e soprattutto il Presidente Francesco D'Amore ha fatto inserire anche il suo comune, lui è anche il Sindaco di Fagnano Alto e quindi è molto motivato e in più ha la sua esperienza internazionale.